Dopo la seduta dello scorso 29 marzo presso l'Aula Consigliare del Comune di Agropoli, è in programma un nuovo Consiglio Comunale previsto per giovedì 12 aprile alle ore 17. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno che saranno discussi nel corso dell'incontro. Approvazione Decreto Legislativo numero 50 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 21. Programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici. Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Triennio 2018-2020. Approvazione bilancio armonizzato 2018-2020. Azienda speciale Agropoli Cilento Servizi. Approvazione Piano Programma 2018-2020. Risoluzione consensuale della Convenzione tra i Comuni di Agropoli, San Giovanni Appiro, Torchiara e Pollica per il Servizio Associato di Segreteria Comunale. Approvazione della Convenzione tra i Comuni di Agropoli, San Giovanni Appiro, Torchiara, Pollica e Laureana per il Servizio Associato di Segreteria Comunale. Qualora la seduta dovesse andare deserta, il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria e in seconda convocazione presso l'Aula Consigliare del Comune di Agropoli il giorno 14 aprile alle ore 17 per discutere lo stesso ordine del giorno. Inoltre nel corso del Consiglio Comunale verranno ufficializzate anche le nuove deleghe Sport e Commercio conferite dal sindaco Adamo Coppola all'assessore Gerardo Santososso.